Buona giornata da Eleonore, rituale per l'impotenza sessuale di un uomo che tradisce la moglie con una donna che ha conosciuto da poco tempo. In questo caso lavoriamo con il pioppo e logicamente deve essere trattato nel giusto modo con le orazioni specifiche e questo rituale serve a renderlo impotente con lei, di modo che lui non possa avere rapporti con questa donna, perdere anche interesse in lei. In questo modo il suo desiderio viene spostato sulla moglie che appunto in questo periodo ha visto veramente poco. Adesso è normale che sia così, appunto che se sia distesa il bastone deve distendersi e infatti come vedete è anche un legno morto, non è un legno vivo, quindi vengono anche trattati questi legnetti in modo specifico prima di essere usati. E ora proseguo, buona giornata.